Buon vinto! Una bella impressione, perché ho visto anche qui lo stadio, anche la base di campo. Bellissimo, anche la città. Penso che sarò felice qui. Sono venuto qui perché volevo andare al nazionale di Romania. In sei mesi abbiamo il primo gioco contro la Francia e spero che gioco bene qui e poi vado là. Penso che posso vincere il campionato e andare a giocare in Champions League. Questa è una buona opportunità per me e anche per i miei compagni. Abbiamo avuto l'opportunità e con Volin. Abbiamo avuto l'opportunità. Mi è piaciuto che Florentina è il nuovo giocatore. Abbiamo chiesto il nostro giocatore. Abbiamo chiesto il nostro giocatore. In questo gioco sulle cose che sono prezontate a Ukraina. Corriere il mondo fondamentale. '? C'è che ci sono in un'altra scola. È un'altra scola e le stadi come! C'è la scola! È un'altra scola! Oh!